Non solo un'importante e ambiziosa opera di restauro, ma allo stesso tempo anche un progetto di comunicazione e valorizzazione artistico-culturale in grado di coinvolgere cittadini e imprese, oltre che un cantiere didattico pensato per gli studenti. Ecco ciò che rappresenta l'intervento di riqualificazione della Basilica Santa Maria Assunta di Gallarate, iniziato a settembre 2016 e che terminerà a marzo del 2018. Noi desideriamo vivere questo restauro condividendolo con tutta la città e questa è stata l'impostazione iniziale. Non a caso abbiamo preso anche come motto che la Basilica parte di te. Alla parte tecnico-operativa il cantiere della Basilica Gallaratese ha da subito affiancato attività di partecipazione e di coinvolgimento della comunità locale, con l'obiettivo di fare della conservazione di un importante bene artistico del Varesotto un'occasione di inclusione e partecipazione, perché non si può conservare se non ciò che si ha a cuore e che si riconosce come parte essenziale di un proprio sistema di valori. Da qui l'idea di un incontro che la parrocchia di Santa Maria Assunta e l'Unione degli Industriali della provincia di Varese hanno organizzato per presentare alla comunità imprenditoriale locale il progetto di restauro, anche attraverso la proiezione di alcuni filmati che hanno raccontato le attività in corso e l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia legate a quella che potremmo definire edilizia 4.0. Investire un euro in cultura vuol dire generare 1,8 euro in tutti gli altri settori, quindi il famoso indicatore degli 89 miliardi di euro che vengono correlati alla cultura generano di fatto circa 160 miliardi di euro in tutto il sistema.